Sto cercando un rapporto diretto con i cittadini perché non mi piace assolutamente la mediazione di giornalistica che io rispetto, ma vorrei riuscire a parlare direttamente con i cittadini e uso tutti i canali. C'era la scelta di un cambio di passo che ho deciso a settembre dell'anno scorso. Il cambiamento, la comunicazione è l'ultimo, mi aspetti. Io a settembre, uno dirà perché settembre? Perché noi abbiamo vissuto un 2013 che secondo me è stato un parchiato per l'Italia, parlo proprio del sistema politico italiano. Quella è stata l'ultima occasione, a mio parere, nella quale l'impronta, l'impianto, la cultura delle forze politiche del Novecento si è presentato con una proposta sostanzialmente in continuità che era quella di, sto parlando del centro-sinistra, che io ho sostenuto, che si è legata totalmente inadeguata a un periodo che ricorda un periodo rivoluzionario, con l'area di Muscola, ma questo Italia non è pieno di una rivoluzione, diciamo, del cambiamento radicale. Quindi io devo dire che ho avuto qualche mese di esigenza di riflessione e ho deciso di cambiare completamente passo in questa direzione. La mia amministrazione fondamentalmente aveva scelto la scuola, i servizi welfare e la capitale europea. Io adesso ho deciso di aggiungere la diminuzione della pressione fiscale, la sburocratizzazione e velocizzazione dei regolamenti edilizi e una revisione degli strumenti urbanistici, che sono stati pensati, sono meravigliosi, ma sono stati negli anni del boom, noi siamo negli anni della crisi drammatica dell'attome. Dopodiché questo richiede anche il cambio di passo politico, il cambio di passo politico è che Ravenna, il sistema Ravenna non è più una corazzata che naviga in un mare tranquillo, siamo una scialuppa in un mare in tempesta. Da qui anche il cambiamento comunicativo. I cittadini di Ravenna, per fortuna di me, si preoccupano molto di meno di quello che pensiamo io e voi. Credo che guardi i risultati, il punto è, a me è capitato di essere il sindaco nella crisi, addirittura decennamente qualcuno pensa che io sia la causa di questa crisi mondiale. vorrei provare a fare in modo che la mia amministrazione, nella seconda parte di questo mandato, sia la comune che prova a reagire alla crisi. Finora non è riuscito, finora non l'ho fatto, adesso ci voglio provare con questo approccio. In Italia tutto lo stato è uno spazio, c'è bisogno di una rigenerazione, di una rivoluzione. Purtroppo la formula dell'usato è sicuro, voi sapete quanto sono amico e quanto stimo per salmi, ma era politicamente sbagliata. So che non mi crede nessuno, e giustamente perché noi politici siamo talmente screditati e danno talmente cattivi esempi, vogliamo fare due esempi che riguardano il mio partito, da Rema dovrà andare in barca, quell'altro dovrà andare in Africa, e sono molto più importanti e bravi di me, ma per chi non dovrebbe credere. Credo anche che freddi a pochissimi, salvo mia moglie, io nel 2016 attacco le scarpe al chiodo. Non avrò più incarichi politici amministrativi di nessun tipo, perché ho dato, attenzione, ho avuto tutto io, ho fatto tutto, ho dato quello che potevo, ringrazio di cuore tutti, la mia è una scelta positiva, non sono arrabbiato con nessuno, però credo veramente che nel 2016 sarò uno che ha dato tutto. Io quello che sto facendo, che ho ripreso a fare da settembre, lo faccio per Rema, io l'ho votato, non ho accettato e non ho voluto di essere, a parte che io non sono degli organismi dirigenti del Partito Democratico e di essere da 15 anni per mia scelta, diciamo che sono uno dei mille che ha sostenuto Bersani l'anno scorso e io ciò ho perduto la sconfitta, non quelli che l'hanno dato, io che sono dirigente. Sì, detto questo adesso Renzi condivido tutto quello che ha fatto a salvo l'aggettivo che ha usato di profonda sintonia, perché doveva dire che c'era l'accordo, sintonia è un'altra cosa, è una voce da se sfuggita purtroppo, nel senso che gli è scappato detto una cosa che evidentemente lui si vive e in effetti lo è come, diciamo, un leader che sta cambiando alla sinistra come fu un o l'altro all'origine, io sono assolutamente d'accordo su tutto e cioè in particolare sul fatto che lui sta cercando di fare la legge elettorale e la protezione del senato e sono anche d'accordo sul giudizio e sul governo. Il diraccio lo facciamo nel 2016. Io comincio a pensarci nella estate del 2015 e firmo, ho in mano la penna, un TSO per qualsiasi esponente del centro sinistra che seriamente adesso ci preoccupa. Non ho altro da dichiarare perché, perché si fa così e poi perché adesso il capo sono io, quindi non c'è bisogno di un vice capo che comincia a correre. E poi perché adesso si fa così si vede un anno prima. Anche perché abbiamo detto che un bravo sindaco, uno che farà bene il sindaco sia un buon candidato, abbiamo detto che è un buon candidato. La domanda è molto pertinente, perché è vero che a un certo punto il congresso locale del PD sembrava che fosse un congresso su chi farà il sindaco e non su chi faceva il segretario. Quindi la domanda è assolutamente pertinente, ma il caso è chiuso.